Musica Amici di Arizona TV, benvenuti a Dilettante A Chi, speciale Raduni. Quest'oggi siamo al centro sportivo comunale di Via Risorgimento a San Giuliano Milanese, dove ha preso il via la nuova avventura del San Giuliano City che affronterà il campionato di Serie D. Siamo con Andrea Luce, presidente del San Giuliano City. Allora Andrea comincia questa nuova avventura, con quali prospettive? Le prospettive sono sempre quelle di voler fare bene. Voler fare bene significa l'impegno della società di lavorare sempre con impegno e sacrificio e trasmettere questa voglia alla squadra. Poi è il campo che parla e quindi automaticamente i protagonisti sono loro, però fuori deve esserci una società importante che lavora a sodo, che li metta nella condizione di poter lavorare al meglio, di poter fare quello che più serve per raggiungere il risultato. Alla fine quello che serve è divertirsi. Loro devono divertirsi, devono essere nella condizione mentale di poter fare bene il loro lavoro e lo possono fare bene soltanto quando poi alla fine ci si diverte, perché questo fondamentalmente è un gioco. Tanti nuovi innesti, alcuni di grande qualità per una squadra che punterà sicuramente in alto. Punterà in alto, sarà sempre, come ho detto prima, il campo a parlare. Però sicuramente come famiglia e come organizzazione ci siamo impegnati a cercare di creare una squadra molto competitiva. Io mi porto dietro il bagaglio di esperienza vissuto a Lodi, mi porto dietro un anno di lavoro fatto in una certa maniera con lo staff tecnico che ho voluto fortemente qui. Quindi so come possiamo lavorare insieme, tutti insieme. Abbiamo messo a disposizione del mister in questo inizio di stagione una rosa che sicuramente per noi è molto competitiva, perché stiamo parlando di giocatori di altissimo livello, giocatori che qualcuno di loro ha vinto il campionato, qualcuno di loro arriva da categorie superiori, quindi arriva dalla Lega Pro, giocatori che hanno rinunciato al salto di categoria per accettare la nostra realtà, perché la nostra non è più un progetto, la nostra è una realtà e di questo posso solo che essere soddisfatto fino ad oggi di quello che è stato fatto. Allora non ci resta che fare in bocca al lupo al San Giuliano City per questa nuova avventura in Serie D. Crepi, ovviva il lupo, adesso non ho mai capito come si dica, però grazie e sicuramente promettiamo il massimo impegno sperando che oltre che divertirci noi possiamo far divertire anche chi ci segue. Con noi c'è il mister Andrea Ciceri che inizia questa nuova avventura qui a San Giuliano dopo quattro anni splendidi a lodi con il Fanfulla. Allora Andrea, con quale spirito iniziate questa nuova avventura? Abbiamo iniziato e come ogni inizio ci sono sempre tanti nuovi stimoli, tanta curiosità, tante incognite, anche quello che sicuramente non cambia come tutti gli approcci ogni stagione, almeno personalmente, è quella che mi sento un privilegiato a poter fare calcio, a vivere di calcio, poterlo fare tutti i pomeriggi e ancora di più, poterlo fare in una società che ha grandi ambizioni e grande entusiasmo. Tanti giocatori nuovi, tanti elementi da amalgamare, sarà questo il primo passo da fare per poi creare il gruppo squadra sostanzialmente? Sicuramente le fortune di una stagione sportiva, in sport di squadra partono davvero dal creare un gruppo, prima un gruppo e poi la squadra, e dopo arriva il campo, i risultati e tutto quanto ne consegue, quindi l'obiettivo principale sarà quello davvero di fare quadrato, di avere le giuste maniere per poter contagiare l'ambiente intero e quindi ai ragazzi da subito ho chiesto di poter essere trainanti in questo senso con l'educazione, con la valorizzazione di tutti quelli che si spendono per la nostra squadra, è importante creare qualcosa di unito che possa darci poi delle gioie da condividere. L'anno scorso è stata una stagione particolare, abbiamo vissuto tutti una stagione dove spesso ci sono state delle interruzioni e quant'altro, quest'anno ci si augura di tornare alla normalità? Sì, l'auspicio è quello, anche se non è dato sapere cosa succederà davvero, quindi siamo allerta, la società è attrezzatissima per ogni situazione, a cercare appunto di prevenire e speriamo davvero che sia un inizio a differenza dell'ultimo anno in cui non ci siano in toppe e si possa procedere con regolarità. Allora facciamo un grande in bocca al lupo a SG City, San Giuliano per tutti e ad Andrea Ciceri per questa nuova avventura. Grazie, ci vediamo sui campi. Siamo con il direttore sportivo Alessio Battaglino, Alessio è iniziata una nuova stagione, una nuova avventura, parlavamo prima con mister Ciceri, augurandoci che sia una stagione finalmente senza interruzioni, la prima cosa. Giustamente Andrea, innanzitutto buongiorno a tutti, giustamente dici questo perché è troppo importante riuscire a partire e non fermarsi più, anche se abbiamo visto che la D bene o male anche l'anno scorso è riuscita a completare bene il campionato, quello che bisogna fare assolutamente per gli sportivi in tutte le categorie, ma soprattutto nella nostra, è fare il vaccino e avere il Green Pass, perché è quello che credo che tra poco ci chiederanno obbligatoriamente. Tanti nuovi giocatori, quindi la prima cosa da fare sarà fare gruppo. Beh, questo era scontato, avere tanti giocatori nuovi per una categoria nuova che magari non si aspettava neanche, abbiamo cercato di puntare su qualche ragazzo che ha giocato insieme l'anno scorso, qualche anno in precedenza, giusto per non partire proprio da zero ed è stata insieme al mister. Ci fidiamo molto della guida tecnica, l'abbiamo preso perché è uno che sa amalgamare bene il gruppo, come si è visto negli anni, porta i ragazzi a dare sempre di più, poi vabbè chiaramente questo non vuol dire che poi si vincerà, però per noi è importante lavorare, è importante il percorso che si farà perché dobbiamo capire dove siamo, a che livello siamo arrivati innanzitutto come società e poi vabbè la squadra, è chiaro, si vedrà sul campo, però noi come società dobbiamo capire a che livello siamo, è quello che ci interessa tanto. Al prossimo episodio